I doppi turni si dovevano evitare, anche perché nel progetto esecutivo era previsto l'inizio dei lavori il primo giugno. I lavori si sarebbero fatti in completa sicurezza per i ragazzi. Questo slittamento dei tempi, che non è dipeso da me, ma da tutta una serie di problematiche, sia a livello comunale. Dovevamo avere poi l'ok da parte del Ministero che faceva slittare parecchio i tempi. Il 15 dicembre il Consiglio è stato messo a conoscenza della necessità e dell'urgenza di fare questi lavori. Si è deliberato di invitare il Sindaco a mettere a disposizione i locali necessari di mattina con i ragazzi della scuola media. che dovevano evitare in questo modo i turni pomeridiani. Nell'attesa bisognava iniziare con i turni pomeridiani. Posticipare i lavori. Io ho pensato anche a questo. Non è possibile concedere la proroga richiesta perché ritarderebbe eccessivamente l'avvio del progetto, aumentando ulteriormente il rischio di completamento dei lavori oltre il termine massimo. Ora mi è stata imposta un'ordinanza con la quale dovevo fare una consegna parziale e attualmente la consegna è prevista per giovedì 22, la consegna totale del cantiere. Ritengo che allo Stato i lavori con i ragazzi dentro, come mi si propone dall'altra parte, non è possibile. C'è la legge 81 del 2008 che prescrive al RUP quale stazione appaltante l'obbligo di eliminare tutti i rischi per quanto riguarda la sicurezza degli alunni e del personale. Dovrei mettere i ragazzi insieme ai lavori senza fare nessuna divisione di nessun tipo perché nel quadro economico del progetto non erano neanche previsti fondi per fare queste famose compartimentazioni di cui si parla. Noi siamo rimasti con i genitori che nel frattempo i turni continueranno di pomeriggio. Poi a breve faremo una riunione con il Consiglio d'Istituto per cercare di fare un'alternanza tra i ragazzi che vanno al mattino e quelli di pomeriggio. E poi io ho fatto anche una proposta relativa a un'eventuale soluzione portando i ragazzi al mattino. Però ci vuole l'aiuto dell'amministrazione in questo caso. Avremmo trovato tre classi a Perrone e qui cinque. C'era la massima disponibilità a cercare di mettere subito in disponibilità dei ragazzi queste quattro aule. Grazie.